I software ElectroGraphics per la progettazione di impianti elettrici e quadri, civili e industriali. I software presentati sono Ambiente Grafico, Cadelet, Eplus, Idea, i quali si differenziano solo per il motore CAD per cui sono sviluppati. Ampere Professional, software per calcolo reti elettriche in bassa e media tensione, in corrente alternata e continua secondo norme CEI. Sigma, software per computazione, analisi e contabilità. La progettazione dell'impianto fotovoltaico è prerogativa del software Solergo. La commessa sviluppata nel corso della rappresentazione consiste nella progettazione dell'impianto elettrico di uno stabilimento industriale di nuova costruzione. L'edificio è costituito da un piano terra che presenta un'ala anteriore adibita ad uffici tecnici e logistica e un'ala posteriore adibita a laboratori e officina meccanica. Adiecente alla zona centrale si troveranno i locali della cabina media-bassa tensione che serve l'impianto industriale. Il primo piano è suddiviso in uffici di amministrazione e direzione nell'ala anteriore e magazzino nell'ala posteriore. L'ala anteriore della costruzione è inoltre composta di un terzo piano che sarà occupato, in parte, da un appartamento di 250 metri quadri. La copertura dell'ala posteriore dell'edificio è sfruttata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di tipo grid connected. La superficie sfruttabile per l'installazione dei pannelli fotovoltaici è pare a 1110 metri quadri, su cui si posizionerà un campo fotovoltaico di 150 kW di picco. Il progetto è pertanto suddiviso in piano terra, piano primo, piano appartamento di 250 metri quadri e impianto fotovoltaico. Nel filmato è in esame, in particolare, lo sviluppo dell'impianto elettrico del piano terra, in cui potrete valutare le potenzialità della sinergia tra i software e i electrographics. Il lavoro inizia con l'ambiente grafico, continua con l'Ampere Professional e termina con il Sigma. I punti salienti sono Inizio del progetto con scelta della commessa di lavoro e del foglio Inserimento della planimetria Definizione dei locali Inserimento della simbologia Calcolo il lumino tecnico Tracciatura dei condotti Inserimento delle utenze previste Dimensionamento e verifica della rete con Ampere Professional Realizzazione del quadro unifilare, multifilare Layout 3D e verifica a sovratemperatura Elaborazione computometrico con Sigma Il filmato relativo all'appartamento posto al secondo piano dell'edificio mostra la realizzazione completa del progetto di un impianto ad uso civile in cui si ha modo di apprezzare gli strumenti utili per l'impiantistica di base E ora mettetevi comodi in poltrona